Il nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. O voi che credete, realgite di quello che vi abbiamo concesso, prima che venga il giorno in cui non ci saranno più commerci, amicizie e intercessioni. I negatori sono coloro che prevaricano. I negatori sono coloro che prevariano. I negatori sono coloro che prevariano. I negatori sono coloro che prevariano. Allah, non c'è altro Dio che Lui, il vivente, l'assoluto. Non lo prendono mai sopore né sonno. A Lui appartiene tutto quello che è nei cieli e sulla terra. Chi può intercedere presso di Lui senza il suo permesso? Egli conosce quello che è davanti a loro e quello che è dietro di loro. E, della sua scienza, essi apprendono solo ciò che Egli vuole. Il suo trono è più vasto dei cieli e della terra, e custodirli non gli costa sforzo alcuno. Egli è l'Altissimo, l'immenso. Non c'è costrizione nella religione. La retta via ben si distingue dall'errore. Chi dunque rifiuta l'idolo e crede in Allah, si aggrappa all'impugnatura più salda senza rischio di cedimenti. Allaiaudienti, sapienti. Allaiaudienti, sapienti. Allaiaudienti, sapienti. Allaiaudienti, sapienti. Allah è il patrono di coloro che credono, li trae dalle tenebre verso la luce. Coloro che non credono, hanno per patroni gli idoli che dalla luce li traggono alle tenebre. Ecco i compagni del fuoco, in cui rimarranno in eterno. Allaiaudienti, sapienti. Non hai visto colui che per il fatto che Allah lo aveva fatto re, discuteva con Abramo a proposito del suo Signore? Quando Abramo disse, il mio Signore è colui che dà la vita e la morte, rispose l'altro, sono io che do la vita e la morte. E Abramo, Allah fa sorgere il sole da oriente, fallo nascere da occidente. Restò confuso il mio scridente, Allah non guida i popoli che prevaricano. Il mio signore è colpito. Il mio signore è colpito. O colui che passando presso una città incompleta rovina disse, Come potrà ridarle la vita dopo che è morta? Allah allora lo fece morire per cento anni. Poi lo risuscitò e gli chiese, quanto tempo sei rimasto? Rispose, rimase un giorno o una parte di esso? No, disse Allah, sei rimasto cento anni. Guarda il tuo cibo e la tua acqua, sono intatti. Poi guarda il tuo asino, ti mostriamo tutto ciò, affinché tu divenga un segno per gli uomini. Guarda come riuniamo le ossa e come le rivestiamo di carne. Davanti all'evidenza disse, so che Allah è onnipotente. Guarda il tuo cibo e il tuo cibo e il tuo cibo. E quando Abramo disse, Signore, mostrami come risusciti i morti. Allah disse, ancora non credi? Sì, disse Abramo, ma fa che il mio cuore sia quieti. Disse Allah, prendi quattro uccelli e fagli a pezzi. Poi metti in una parte su ogni monte e chiamali. Verranno da te con volo veloce. Sappi che Allah è eccelso e saggio. Quelli che con i loro beni sono generosi per la vita. La causa di Allah sono come un seme da cui nascono sette spighe. E in ogni spiga ci sono cento chicchi. Allah moltiplica il merito di chi vuole lui. Allah è menso, sapiente. Allatheena yunfiquun amwalahum fi sabiilillahi thumma la yutbihun ma anfacu manna Thu Om alak alawahum udlllahu ham jágruum hum yind rabbihim walā khawfun alayhim Quelli che con i loro beni sono generosi per la causa di Allah senza far seguire il bene da rimproveri e versazioni avranno la loro ricompensa presso il loro Signore, non avranno nulla da temere e non saranno afflitti.